Oggi si è verificato un grave incidente sul lavoro in una fabbrica di casa al Bordino in provincia di Chieti, Abruzzo. Un'esplosione di grande entità coinvolte operai e dipendenti presso la Sabino Esplodenti, causando purtroppo tre vittime feriti, secondo le prime informazioni disponibili. Squadre dei Vigili del Fuoco e Ambulanze del 118 sono giunte prontamente sul luogo per fornire assistenza e mettere in sicurezza la zona. Le cause di questa esplosione nella Sabino, esplodenti di casa al Bordino, sono ancora oggetto di indagini in corso. L'azienda è specializzata nella smilitarizzazione delle munizioni, continuando una tradizione nel settore militare, che ha sviluppato processi produttivi per il recupero di materie prime, in particolare esplosivi metalli e plastiche.